allora vi volevo dire che oggi faremo un tutorial su come come attenzione su come fare una live allora ragazzi dovrete scaricare live in five che è questa app che si deve scaricare tramite play store e questa live in five vabbè che scrive sempre love live in five riuscirà questo voi vi dovrete scaricare quest'app e dovete premere live mobile game appena aprite l'app poi metterete youtube se volete farla su youtube e preverete il pulsante uscirà questa scritta qua e movi zoomerò questa qui la preverete sopra e si starterà la live dove è finito il mio posto di mobile e si starterà la live e poi ragazzi godetevi la vostra live quindi ragazzi spero che questo tutorial vi sia piaciuto tanti like per questo video ci vediamo in un prossimo video tutorial ciao andrà su un sito youtube dove voi potrete mettere tipo le schede i sondaggi però dovrete avere l'account di youtube verificato dovrete andare sul profilo youtube mettere il mio canale il mio no aspetta in vabbè fa niente allora e questo sito uscirà verifica canale tu verifichi dai il numero ti manderanno un codice sulla tua email che poi dovrai dare diciamo la password e poi ti configureranno l'account e quindi nonostante che potrei fare video più alti di 15 minuti poi potrai partecipare anche al live cioè potrei fare le live quindi ragazzi per adesso ho finito bella